Sì, adesso sta andando? Sì, capito? Beh, quando è andato? Sta andando o no? Sì, perfetto. Scusa. Ciao, passi, ciao Luca. Sta andando o no? Sta andando. Però tu stai qua, quando diciamo fai andando, fai andando. Quindi va. Pizzeria, 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 pasticceria, caffetteria 3.14 si presenta. Wow! Mercoledì 23 ottobre alle ore 19.30, Luca Scappi, Luca Scappi, cioè, Luca Scappi, live, in diretta, in diretta, da Fizzeria, pasticceria, caffetteria 3.14 si presenta. Però? Presente. No, in realtà non presento io, ma ci sarà un ospite? Gli ospiti sarete tutti voi, primo, ma ce ne sarà uno in particolare che viene giù, fa un po' di strada apposta per noi, perché vuole venire a conoscerci perché siamo bravi e belli. Quello sicuro, non lo so, no? Eh, non lo so. Sputo? No! E non viene a trovarci perché siamo belli, carini e simpatici, anche, ma viene a trovarci perché deve presentare il libro, uno dei suoi tantissimi libri. In particolare, visto che noi ci chiamiamo pazzi di rubri, viene a presentarci l'Uragano Nero, che è la vita di Giorno Lomu. L'Uragano Nero. Adesso capisco tutto, però, l'Uragano Nero. Stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti che c'è stato in questo sport, che purtroppo è mancato qualche anno fa. Ha passato, permettini. Ha passato la palla. Ha passato il gioco raclistico. Esattamente. E, sai, questo qua non è tanto per venire a insegnare qualche cosa. La mia intenzione non è tanto chiamare l'esperto che viene a insegnarci qualche cosa. Viene a raccontarci una bella storia. Perché, principalmente, io personalmente so chi era, ma non immaginavo che ci fosse una storia così affascinante dietro. E soprattutto non immaginavo, da ignorante, che questo sport avesse sotto così tante belle storie. E questo è un libro che, con la scusa della prima stella che questo sport ha avuto, perché l'uomo, stiamo parlando della prima stella internazionale di questo sport, oltre a parlare della prima stella, come scusa, ci parla anche di tantissimi aspetti così folcloristici, belli e sconosciuti del nostro fantastico sport. E quindi, per chi vuole venire, mercoledì 23 ottobre, alle ore 19.30, in pizzeria, pizzeria, pasticceria, caffetteria 3.14, a Casalosa, Massimo. Per successo. Sulla voce, pizzeria, pasticceria, pizzeria, pasticceria, caffetteria, 3.14, mercoledì 23 ottobre, alle ore 19.30. C'è da prenotare, Luca? Sì, se si prenota è meglio, perché così ci si assicura il posto. Non vorrei venire lì dopo l'ontro, è spiacevole. Allora diamo il numero di telefono di Luca? Zero, non è il mio personale, perché sennò dopo la mia fidanzata mi ci fa un culo così. Ma, diciamo. Bip, 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 vai. Zero, tre, sette, sei. Zero, tre, sette, sei. Sette, quattro, sette, sette, sette. No, 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 dillo bene, dillo giusto. Zero, tre, sette, sei. Sette, quattro, sette, sette, sette. No, sette, sette, uno, è scuro. No, dillo. Allora, zero, tre, sette, sei. E' il prefisso di Vattro. Sette, quattro è Casaroldo, sette, sette, sette è il nostro. Tre volte sette. Più facile di dire così, non c'è. Allora, abbiamo scherzato anche, comunque. No, no, no. Mentre il tema è importantissimo. Sì, sì, ma è importantissimo. Quindi ragbisti, ragbiste. Valentina, Valentina. Ne è Valentina? Ne è Valentina lì? 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 Quando parlo di queste persone... Poi c'è anche la Elena, social media manager, che ricordiamolo, fallo partire la Elena. Rosy! 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 Rosy stava in i denti adesso. Ah! Dai, Roberta. Scusa signora, mamma. Dai, dai, dai. Su, 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 su. Quindi, per una sera, che è un mercoledì sera, c'è una cosa che scriviamo fuori? Non lo so. Parliamo di loro. Ci sono loro. Ci sono loro, signora. Ok? Tra l'altro ci sono i mondiali che saranno gli scoccioli. Esatto. Quindi, più bello di così. E poi ci sarà anche un ospite importantissimo. Marco Bonzi. Marco Bonzi. Beh, certo, sicuro. Marco Bonzi, poi ci sono anche i fratelli gemelli, i gemelli diversi. No, no. Ci sono anche loro. I gemelli. Esatto, che è il medico. Venite qua, venite qua. Dai, venite qua, Nico. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, Matteo, vieni. Vieni qua, Matteo, vieni. Vieni, Matteo, vieni. Vieni, Matteo, vieni. Vieni, Matteo, vieni. Vieni qua, Gabriele. Ah, stasera siamo al Terzo Tempo, la Clubhouse del Centro Sportivo Montichiarello a Montichiari. Loro sono i Colossi, i fratelli Colossi. Purtroppo ci saranno anche loro. Ci saranno anche loro che vi aspettano, loro, quindi signore e signorine, mi raccomando. Siamo al Centro Sportivo Montichiarello, tutti i martedì sera, dalle 20.30 alle 21.30 ci troviamo in campo e poi veniamo qua, nel Verdurine, in Salatina e facciamo il Terzo Tempo. Marco Bonzi, vediamo sia, vediamo il piacere di avere anche Marco, che c'è due parole anche Marco. A, B, buono. Abbiamo Simone, Simone, grande Simone. Il nuovo, nuovo, ma non l'ultimo, non così c'è? L'ultimo, Andrea. E poi abbiamo la Valentina, la vera Valentina. Cioè, ascolta me, mica la vera Valentina è Gianluigi. Non Gianluca, Gianluigi, si chiama come me, ho trovato un Gianluigi. Un Gianluigi. Eh, ma il telecamera non ci fa venire? Chi? Il telecamera. Lui, no, il nostro giocatore è... Lui che è? Il nostro giocatore è il nostro giocatore. Alessio! 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 Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!